È un po' una sfida affrontare queste tematiche in un territorio diverso da quello del Mezzogiorno? Non so se è una sfida, perché poi in definitiva da parte mia c'è l'accettazione di un invito che come per Milano, anche per Sanremo, è romana dagli organizzatori, da coloro che si sono posti il problema di rappresentare il Sud su questi grandi scenari nazionali ed internazionali. Per parte mia c'è la consapevolezza della doverosità che l'altra Italia conosca le ragioni del Mezzogiorno e capisca che anche nell'800 e anche nel 48 se c'è stata una sollevazione europea, quella sollevazione è cominciata nel Cilento. E questo mi pare un dato che giustifichi e anzi imponga che si accetti l'invito a testimoniare le ragioni del Cilento anche nel nord del paese. Sanremo è Sanremo, fa parte della storia d'Italia, non è solo un momento canoro, perché da tantissimi anni per quella settimana si ferma, possiamo dire, l'Italia c'è attenzione sul palco dell'Ariston e tra le tante iniziative anche la presentazione del suo libro. Allora, volendo fare un invito, anche ricordando una delle tante canzoni, l'Avvocato Maldonato, quale sceglierebbe in questo momento, parlando di canzoni italiane, della storia di Sanremo, presentazione del suo libro, con quale accompagnamento musicale? Non so se a casa Sanremo, perché quella sarà la location dell'evento. Quando si spengono i riflettori sul palco dell'Ariston si trasferiscono tutti a casa Sanremo. Non lo so, se lei mi chiede qual è la canzone, il motivo musicale, beh, insomma, io sono rimasto a Luigi Tenco. Allora, un invito a tutti i cilentani che, insomma, si dovessero trovare a Sanremo in quei giorni, sabato 13, ad unirti al suo momento.